Mi ha piacere di incontrare Alessia Fabiani, ciao come stai? Ciao, benissimo, una giornata di sole a Milano, primavera, allora benissimo. Senti, ci troviamo all'Houter Solidale della Fondazione Pupi, ci sei anche tu perché hai donato delle scarpe, esatto? Sì, il mio sponsor Shubiju, mi ha fatto piacere visto che partecipo anche da un po' di tempo, anche soltanto come personaggio a queste iniziative della Fondazione di Pupi. Io sono interista ma non è soltanto quello il motivo, sicuramente questa è una buonissima causa per i bambini dell'Argentina, tutto ciò che per fare del bene alla gente, meno fortunata di me, mi vede sempre tra i protagonisti, mi fa piacere perché vedo moltissima affluenza, oltre appunto alle mie scarpe ci sono tantissimi altri sponsor che hanno partecipato attivamente e la curiosità è proprio che quest'anno questo mercatino ha le novità del momento, cioè le collezioni esistenti oggi nei vari negozi, quindi è tutto molto attuale, quindi vedo che c'è un grande fermento e questo mi fa molto piacere. Ultima cosa, quanto è importante per le persone come voi dello spettacolo, anche dello sport, comunque unirvi per fare del bene e a chi ha bisogno? Io credo sia fondamentale perché è una banalità ma è la verità, l'unione fa la forza, tra di noi c'è sicuramente la forza di dare un messaggio solidale, l'essere uniti, l'essere forti e noi più fortunati poter dare una mano a persone che ne hanno sicuramente molto più bisogno di noi. Poi insomma sono tutte iniziative molto divertenti, quindi diciamo che non si fa assolutamente fatica, quindi viene tutto dal cuore. Perfetto, ti ringrazio e un saluto da tutti gli amici di Blogosfere. Grazie e io saluto tutti gli amici di Blogosfere, grazie a voi. Ciao.